Juventus Atalanta, amichevole a Cesena il 12 agosto. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Nuova scommessa per la Juventus prevista per sabato 12 agosto 2023 alle ore 20 e 30 l'amichevole con l'Atalanta, la gara si terrà a Edino Manuzzi di Cesena. Una prova importante e utile per migliorare la forma fisica in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto alle ore 20 e 45 a Udine. Quella contro Bergamo sarà la terza partita della prestagione, dopo la cancellazione della partita contro il Barcellona nel tour di apertura negli Stati Uniti e la vittoria ai rigori contro il Milan venerdì, 28 luglio. I bianconeri giocano ad Orlando per incontrare il Real Madrid nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto, inizia alle ore 1 e 30 italiane. Con il ritorno in Italia, la formazione prosegue in continassa per non parlare dell'allenamento con i tifosi bianconeri in programma all'Allianz Stadium il 9 agosto, e la partita con l'Atalanta del 12 agosto sarà piuttosto un buon test per l'inizio ufficiale della nuova stagione. Biglietti in vendita qui da 17 il 2 agosto.